Il gruppo Calabria Civica che coordino su scala regionale è fortemente contrario per il voto del 14 febbraio per due motivi, da un lato c'è un problema di sicurezza e in assenza di sicurezza vengono a mancare gli spazi del confronto democratico e dall'altro lato c'è un problema di potenziale incremento del contagio e chi ha indetto quella data deve assumersi la responsabilità di fare un passo indietro per garantire il diritto al voto e alla salute dei calabresi.